Poi va a servire Cori, il limite dell'area del Ponte d'Era, Manconi tenta la conclusione, il gol, il gol dell'Albino Leffe. C'è l'ok dell'arbitro, il fischio di Vergaro, il cross di Giorgione, poi la girata e c'è il gol, il 2-0, 2-0 per l'Albino Leffe che raddoppia il conto. In casa l'anno scorso, prima del Covid, c'è il problema che scorre, Manconi, aree di rigore, Manconi si gira, Manconi, colpo da Bigliardo e l'Albino Leffe in vantaggio. Però allunga, Tomaselli lo recupera, può partire un altro contropiede di Manconi che arriva prima di Damonte, Manconi ancora lui, al limite, Manconi si accentra, però la conclusione, il gol del 2-0, lo timbra Manconi. Ma Giorgione, calcia, basso, la palla passa, occhio a Manconi, destro! Torna avanti l'Albino Leffe, in gol, chi se non lui, Jacopo Manconi. Manconi, aree di rigore, Manconi, tiro deviato! Non è sul destro, può pensare alla conclusione, arriva a tuta, Manconi prova la giocata su Belemo, gli riesce, prende velocità, il 22, porta a palla a Manconi. Con il destro, deviato, Cori, aree di rigore, Cori, dentro, Giorgione, il gol, il pareggio di Manconi! Diciassettesimo centro stagionale, 1-1 Albino Leffe. Ha avuto lo spazio buono per colpire, Cori. Il testo è bravissimo, corso tra le gente, deselezione d'attacco, Manconi, Manconi da solo, Manconi contro Sarri, Manconi! E' il gol della qualificazione dell'Albino Leffe, il play, al secondo turno di playoff, la chiude Manconi, sedicesimo gol stagionale, 1-0 Albino Leffe. Va a dischintare, disturbare Manconi, dal dischetto, il pallone, chi fa una stagione, Manconi contro Gagno, 97 quasi, Albrahia. Parte Manconi, con il testo, più al cuore, 97 proprio, base da Messi. Vincolo di confermere, gran ultimi scoperto, un secondo turno. A parte Manconi, il destro! Ricorsa breve per il 10. Parte Manconi, para Caprile Manconi con il tap-in! Ricorsa brevemente! 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 Manconi con l'esterno! Scatta Tomaselli! Ricorsa brevemente! 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 Ricorsa brevemente!